L'ultima notizia su Edoardo Galli. A soli 17 anni, Edoardo ha lasciato tutti senza parole con la sua misteriosa scomparsa il 21 marzo a Colico. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. Non si è presentato a scuola, preoccupando profondamente la madre, la quale ha lanciato un appello struggente affinché il figlio faccia sapere che è sano e salvo e torni a casa. Mentre alcuni ipotizzano un coinvolgimento in qualcosa di più grande di lui, il desiderio unanime è che ritorni presto. Edoardo, un brillante studente appassionato di storia, geografia, arte e filosofia, non dà segni di vizi o problemi scolastici, rendendo la sua scomparsa ancora più enigmatica. Mentre la comunità e la famiglia mantengono la speranza di ritrovarlo in colume, il mistero attorno a Edoardo persiste, alimentando un appello disperato alla speranza, alla solidarietà e alla ricerca di risposte. Cosa pensate possa essere successo a Edoardo? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.